Doveva essere un weekend tranquillo per David Glasser e i suoi amici. Eppure, a loro insaputa, le cose stavano per prendere una piega decisamente inquietante. Nell'agosto del 2011, David e i suoi amici si ritroveranno soli di fronte alle persone più spaventose e pericolose che potessero mai incontrare. Ciao, belli d'ezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E il file di oggi sarà particolarmente pesante e a tratti anche disgustoso. Parleremo di tante cose orribili, vi dico solo che un ragazzo di questa storia mi ha ricordato molto Pazuzu Algarad di cui vi ho parlato qualche settimana fa, cioè me l'ha ricordato esteticamente più che altro. Quindi potete già immaginare che sarà una persona dall'aspetto decisamente inquietante. Però vabbè, probabilmente l'avete già visto nella copertina. Comunque, prima di cominciare, devo ricordarvi che su Pampling, vi lascio il link in descrizione, trovate tutte le magliette che indosso nei video, ma anche tante altre cose fighissime. Insomma, date un'occhiata e nel caso sceglieste di prendere qualcosa, ricordate di inserire il codice ANDREW, perché con il codice vi daranno anche delle calze a vostra scelta totalmente in omaggio. E ora possiamo davvero cominciare. La storia di oggi inizia nella città di Pittsfield, nello stato del Massachusetts. E devo subito dirvi che, da quello che ho letto, non è proprio un bel posto. Nel senso che le altre città dello stato sono più ricche e vivibili, mentre Pittsfield sembra non avere proprio una buona fama. Con questo non voglio dire che è una città di merda, anzi alcune fonti dicono che è davvero un bel posto. Ma in generale, rispetto alle altre città del Massachusetts, diciamo che non c'è paragone. Ma quindi perché se ne parla così? Cosa cavolo succede a Pittsfield? Ecco, si dice che lì, semplicemente, non ci sono molte opportunità. Si tratta di una comunità stretta, un po' chiusa e in cui non si può fare molto. Come il posto di merda in cui vivo io. Poi vabbè, pensate, a parte gli scherzi, che addirittura il 10% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà. Quindi ecco, in generale, non è il posto ideale in cui vivere. Ma comunque, come se già le premesse non fossero abbastanza, nell'agosto del 2011 la città viene colpita dal famoso uragano Irene. O Irene, come si dice in inglese. Non so se in italiano si traduca Irene, non lo so. L'uragano lo chiamerò Irene, ok? Perché è più facile. Sappiate che originariamente si chiama Uragano Irene. Hurricane Irene. Tralasciando ciò, gli abitanti comunque raccolgono tutte le loro forze e riescono in qualche modo a superare anche questo momento difficile. Cosa non assolutamente scontata, perché molti luoghi in cui avvengono questi cataclismi si ritrovano davvero in ginocchio. E gli abitanti sono costretti o ad andarsene o a vivere tra le macerie. Ma ad ogni modo, a Pittsfield, durante quella bufera, alcuni uomini sono in casa tranquilli. Sanno che si sta avvicinando l'uragano, per cui si sono messi al riparo. Ma non sanno cosa li aspetta. Perché poco dopo verranno travolti da qualcosa di molto peggiore dell'uragano Irene. Si tratta dei tre amici David Glasser, di 44 anni, Edward Frampton, di 58, e Robert Chadwell, di 47. I primi due, David ed Edward, vivono insieme in un appartamento a nord-ovest dell'area commerciale di Pittsfield, precisamente nella Linden Street. I due sono molto legati, si vogliono molto bene e sono amici da tantissimo tempo. Durante la crescita, però, hanno entrambi affrontato dei brutti disturbi dello sviluppo. Per questo sono stati aiutati dai servizi sociali in varie occasioni. Ora, infatti, grazie a questi aiuti che hanno ricevuto, vivono decentemente e in maniera autonoma, cosa non affatto scontata. David, in particolare, non ha delle qualifiche, per cui per lavoro raccoglie rottami e li rivende ai centri di smaltimento o ai privati. Diciamo che è un lavoro non proprio legale, a quanto capito. Comunque, lo fa, non dà fastidio a nessuno, è un uomo un po' problematico, ma, insomma, diciamo che nessuno lo denuncia all'Agenzia delle Entrate degli Stati Uniti. Ecco. Infatti, David non sta proprio benissimo. Anzi, direi che sta abbastanza male, sia fisicamente che mentalmente. Infatti ha il diabete e, in passato, ma anche, vabbè, in presente e in futuro, sarà vittima della cattiveria delle persone. Per fare un esempio, in passato, una volta è stato licenziato ingiustamente perché era incompreso e maltrattato dai colleghi. Poi, quando era molto giovane, si è allontanato dalla sua famiglia, per motivi che non conosco, e questo lo ha portato a crescere in maniera non proprio sana. Inoltre, sembra che sia perennemente ubriaco, o almeno questo è come lo descrivono gli altri. Ma in realtà è solo molto, molto goffo. Ma ecco, nonostante questo passato e nonostante le ingiustizie, David è gentile e disponibile. E sicuramente riesce ad essere un ottimo amico. Ha una grande passione per la musica, infatti suona la batteria e gli piace tantissimo il rock. Anzi, in realtà, i suoi gusti musicali sono svariati. Infatti ha anche suonato gospel, addirittura, in una chiesa del posto. E questo, in sintesi, è David. Un uomo che soffre e che ha sofferto, ma che nonostante tutto continua ad andare avanti. Ma anche il suo amico Edward ha sofferto molto. Anche lui ha avuto vari problemi durante la vita. Ma è sempre riuscito in qualche modo ad affrontarli e addirittura a parlarne apertamente. Pensate che dà delle lezioni agli assistenti sociali e insegna loro praticamente tutte le cose che ha vissuto nelle sue brutte esperienze passate. Cioè, lui dà loro degli insegnamenti basandosi proprio su queste esperienze. Quindi, direi che è ammirevole. Cioè, lui ha preso il suo brutto passato e lo ha trasformato letteralmente in un lavoro. Sicuramente non è una cosa facile, anzi. Ma comunque, Edward è spiritoso e gentile, proprio come David. E anche lui non ha più legami con i suoi familiari. Infatti, all'età di soli 5 anni, è stato praticamente abbandonato in una struttura ed è rimasto lì fino a oltre i 20 anni. E poi gli basta. Cioè, non sappiamo molto altro della sua vita. A parte che nel 2011 vive insieme a David e i due sono molto legati. Si ipotizza che Edward sia come una sorta di fratello maggiore per David. Ma non sappiamo dove si sono conosciuti o perché. Sappiamo solo che vivono insieme e si trovano molto bene. Quindi, appena vengono a conoscenza del fatto che sarebbe passato l'uragano Irene, decidono di passare il sabato sera in casa, per poi partire domenica e andare ad osservare la tempesta. Come sapete, molte persone sono affascinate da uragani, tornado e in generale fenomeni atmosferici di questo tipo. Compresi i nostri Edward e David, che decidono di includere anche un loro amico nel loro programma. Chiaramente sto parlando del terzo uomo del gruppo, Robert Chadwell. Robert abita dall'altra parte della strada ed è un padre come tanti altri. Di lui sappiamo solo che ama le attività all'aria aperta, come la pesca e il campeggio, e anche lui, come i suoi amici, adora ammirare questi enormi uragani. Quindi, senza pensarci due volte, accetta l'invito di David ed Edward. Si presenta a casa loro quindi il sabato sera del 27 agosto 2011 e i tre cominciano a chiacchierare, guardare la tv e in generale divertirsi e svagarsi. Fuori il vento soffia fortissimo, ma l'uragano non colpisce in pieno la città. Quindi, tenendo conto della situazione, è tutto relativamente tranquillo. Di sicuro i tre amici non possono immaginare che presto qualcosa avrebbe distrutto quella tranquillità. E non sto parlando dell'uragano. Quel sabato, prima di chiudersi in casa con gli amici, David ha dato un passaggio ad un suo conoscente. Durante il viaggio, gli ha rivelato di essere un po' sovrappensiero per una cosa che avrebbe dovuto fare due settimane dopo, ovvero andare in un tribunale per testimoniare contro il leader di una gang. Ma non è entrato troppo nei dettagli e in ogni caso non sembrava molto preoccupato. Quindi, una volta accompagnato a casa questo conoscente, David è tornato nel suo appartamento come se nulla fosse. Ma spostiamoci ora alla sera. Sono le 22.30, sempre di questo sabato 27 agosto. E in questo momento, David e Edward e Robert sono insieme nell'appartamento. Ma la proprietaria di casa, che vive nella stessa struttura, nella stessa villetta, va nel loro appartamento e chiede a David se può spostare la sua auto perché sua madre sarebbe arrivata di lì a poco e le serviva il posto auto libero. L'uomo quindi lo fa tranquillamente e ritorna dagli altri. La proprietaria di casa però nota che nell'appartamento non sono in tre, ma in quattro. E lei conosceva tutti lì dentro, tranne uno. Non aveva proprio idea di chi fosse il quarto uomo. Quindi lancia solo qualche occhiata e poi se ne va senza pensarci troppo. Ma dopo diverse ore, a notte fonda, sente degli strani rumori provenire dal loro appartamento e riesce addirittura a sentire le voci di Edward e David. Ma oltre a loro, sente anche due voci sconosciute, per cui ancora una volta si stranisce. Ma non ci pensa troppo perché conosce i suoi inquilini e si fida molto di loro. Molto probabilmente pensa che hanno organizzato una piccola festa o cose del genere. Niente di preoccupante in sostanza. Non ha la minima idea dell'orrore che sta accadendo tra quelle mura. Passano le ore e si fa mattina. La proprietaria di casa torna nell'appartamento per dire a David che può rimettere la sua auto al suo posto. Ma alla porta non risponde nessuno. La signora non si allarma e riprova a fare la stessa cosa verso sera. Ma ancora una volta, nessuna risposta. E a questo punto, sì che si preoccupa. Capisce che la situazione non è normale. I tre amici sarebbero dovuti andare a guardare l'uragano quel giorno, ma la macchina di David era ancora lì. Nonostante questo, ancora una volta cerca di non preoccuparsi, quindi passa ancora del tempo e arriva il giorno dopo ancora, un lunedì. Quella mattina Edward ha un appuntamento di lavoro con una donna, un assistente sociale che lavora con lui. Ma proprio quest'assistente si rende conto che l'uomo è in ritardo. Infatti passano i minuti, poi le ore, ma niente. Edward non arriva e non le lascia nemmeno un messaggio. La donna allora prova a chiamarlo, ma non risponde nessuno. Evidentemente preoccupata, decide quindi di andare di persona a casa sua. Arriva sul posto molto in fretta e già da fuori nota alcuni dettagli strani. La televisione è accesa e l'auto di David è ancora lì, nonostante non ci fosse nessuno. Girando un po' intorno, nota che la porta d'ingresso è aperta, cosa decisamente strana, quindi entra e dà un'occhiata in giro. Ma non trova niente di anomalo. L'unica cosa inusuale riguarda il loro gatto domestico che non ha cibo nella ciotola e sembra affamato. Ma a parte questo e la tv accesa, è tutto nella norma. Non ci sono segni di effrazione e tutto è al suo solito posto. Semplicemente quei tre sono spariti. Allora la donna cerca di pensare razionalmente e contatta gli ospedali della città. Pensa che magari sono stati portati in ospedale per un malore o qualcosa del genere. Ma nessun ospedale conferma le sue ipotesi. I tre amici non sono stati portati in nessuna struttura. Sono svaniti né nulla. E solo ora viene fatta una denuncia di sparizione. Ma passa ancora altro tempo e la polizia inizia il suo lavoro due giorni dopo. Mercoledì 31 agosto 2011. Comincia setacciando la casa da cima a fondo controllando anche le abitazioni vicine. Ma oltre a questo gira anche per tutta la città alla ricerca di qualcosa di sospetto. Di un indizio delle testimonianze. E infatti dopo neanche troppi sforzi alcuni abitanti di Pittsfield raccontano agli agenti di aver visto due persone sospette. Dicono di averle viste sul ponte del fiume della città intente a gettare degli strani oggetti nell'acqua. Oggetti come calzini, una scatola e qualche paio di scarpe. E questo è un dettaglio molto strano perché uno dei testimoni racconta di essersi addirittura avvicinato a queste persone e di aver chiesto perché stessero gettando quelle cose nel fiume. E loro come risposta gli dissero che il fiume ora che era in piena a causa dell'uragano avrebbe dovuto portare quegli oggetti molto lontano abbastanza da renderli impossibili da ritrovare. Ecco questo può sembrare un indizio che non porta a nessuna pista ma tenetelo a mente perché dopo ci torneremo e sarà un indizio in realtà molto importante. Quindi adesso arriva la parte più complessa del caso ovvero devo parlarvi di queste due persone le persone che gettavano gli oggetti nel fiume ma non sarà facile soprattutto perché in qualche modo sono entrambe collegate a David. Ricordate che l'uomo avrebbe dovuto testimoniare in tribunale contro il capo di una gang. Ecco chi è il capo di questa gang? Pensate che coincidenza si tratta di uno dei due uomini che quella sera buttavano le cose nel fiume e si chiama Adam Lee Hall. Ma chi è davvero? E cosa c'entra con David e con gli altri due uomini scomparsi? Dunque Adam è il capo degli Hells Angels Angeli dell'Inferno un gruppo di motociclisti che pratica riti satanici e che nel corso del tempo ha commesso degli omicidi. Adam in sostanza è un criminale davvero pericoloso che già nel 97 era stato condannato per aggressione. Inoltre ha collezionato possiamo dire varie accuse per guida spericolata e col passare del tempo si è guadagnato la fama di un mostro senza scrupoli. Tutti sanno che è un uomo che sa come manipolare le persone per ottenere ciò che vuole e già nel 2009 è conosciuto anche per non avere alcuna pietà verso chi si mette contro di lui o si mette in mezzo ai suoi piani. E purtroppo il nostro David si è messo in mezzo. Per farvi capire meglio che tipo è questo Adam voglio parlarvi di casa sua. Innanzitutto ha una sorta di giardinetto recintato ma non ha un cancello. Quindi per impedire l'ingresso cosa fa? Mette dei camion davanti all'entrata. Cioè immaginatevi proprio un camion che blocca l'entrata del suo cortile. Una cosa abbastanza inusuale infatti potrei dire che la sua abitazione sembra quasi una fortezza per come l'ha costruita. Come l'ha conciata. Una fortezza messa molto male perché sul suo vialetto è pieno di erba incolta e rifiuti sparsi un po' ovunque. In generale è tutto tenuto male con cianfrosaglie buttate dappertutto ed è proprio in questo luogo che il nostro David conosce Adam. Come vi ho detto all'inizio David raccoglie rottami per lavoro e li vende o a privati o ad un centro di smaltimento. E uno di questi clienti privati era proprio Adam. Ma un giorno nel 2009 i due hanno litigato pesantemente. Il motivo? Una semplicissima incomprensione. David aveva trovato dei rottami per strada e li aveva venduti ai suoi clienti. Ma quei rottami appartenevano ad Adam. David non lo sapeva ma quando lui è venuto a sapere che David aveva venduto cose sue anche se erano solo rottami si è infuriato tantissimo. Cioè stando alla logica malata di Adam è come se David gli avesse rubato della roba. Ma stiamo parlando letteralmente di spazzatura. Quindi diciamo che era più che altro una scusa per incazzarsi e fare casino. Infatti usando questa scusa Adam chiama David e lo fa andare a casa sua e lo massacra di botte. David però dopo l'aggressione fa qualcosa che quasi nessuno avrebbe fatto ovvero denuncia Adam. Il capo della gang però gli aveva detto che se avesse raccontato qualcosa alla polizia lo avrebbe ucciso. David quindi ha valutato al meglio la situazione e grazie anche all'aiuto dei suoi amici alla fine ha comunque deciso di denunciarlo. Così la polizia è andata a casa di Adam e lo ha arrestato ma purtroppo l'arresto non è servito a niente perché lui ha pagato da solo la sua stessa cauzione e si è subito liberato. Sarebbe comunque dovuto andare al processo per difendersi dalle accuse di David ma non era assolutamente disposto a fargliela passare liscia. Secondo lui David meritava di morire per questo Adam organizzò una sorta di imboscata con l'aiuto della sua ragazza e vi ricordo che le cose che vi sto dicendo ora sono avvenute prima dell'uragano Irene e chiaramente prima della sparizione dei tre uomini. Scusate ma la storia a questo punto è un po' incasinata ma comunque l'obiettivo di questa imboscata di Adam era proprio uccidere David ma per fortuna in qualche modo il suo piano fallì miseramente e la polizia lo arrestò di nuovo ma questa volta fissò una cauzione molto più alta ben 250.000 dollari intanto però gli agenti scoprirono anche la sua gang gli Hells Angels scusate il gatto continua a miagolare non so che cosa fare ha mangiato vuole solo entrare in cucina e poi piangere di nuovo per uscire comunque dicevo la polizia scopre gli Hells Angels e Adam rimane un attimo sotto sciocca l'idea di ricevere una condanna pesante e finire a marcire in carcere quindi non sapendo come difendersi propone all'FBI di collaborare per smantellare la sua stessa gang così da ottenere una riduzione o una cancellazione della futura pena ma l'FBI ovviamente rifiutò ogni invito a collaborare con lui cioè vi rendete conto a sto punto Adam era talmente disperato da voler tradire la sua stessa gang chiaramente aveva paura del processo e non voleva finire in carcere per il resto della sua vita e oltre a questo aveva anche un conto in sospeso con David quindi fece di tutto per liberarsi da questa situazione e non so come ma ci riuscì pagò in qualche modo la cauzione di 250.000 dollari probabilmente aiutato dalla sua gang e uscì di prigione non era ancora stato condannato era in prigione in attesa del processo ma pagando la cauzione sostanzialmente è riuscito a liberarsi e quindi torniamo al presente torniamo all'uragano Irene sono passati 5 mesi da quando Adam ha pagato la cauzione e a questo punto manca pochissimo al giorno in cui David avrebbe dovuto testimoniare contro di lui per le aggressioni ma durante l'uragano la cittadina sarebbe stata tranquilla non ci sarebbe stato quasi nessuno in giro insomma stavolta per Adam è il momento perfetto ed ecco che quel sabato 27 agosto 2011 David Edward e Robert spariscono nel nulla ma la polizia adesso oltre alle testimonianze su quei due che gettavano roba nel fiume conosce anche il passato di Adam quindi sa che David aveva un nemico molto pericoloso sono tutti davvero molto preoccupati e fanno bene perché solo i due settimane dopo faranno una scoperta raccapricciante ci dobbiamo ora spostare a Beckett una cittadina a sud est di Pittsfield lì un uomo di nome Cole sta ristrutturando casa sua che è tipo gigante ha un terreno immenso e c'è tantissimo lavoro da fare quindi questo Cole ovviamente aveva assunto varie persone per fare quei lavori tra cui un uomo di nome David Casey che era il responsabile del livellamento del terreno per cui aveva a che fare con escavatori e macchine del genere ecco tenete a mente anche questo David Casey ma tornando a noi il 29 agosto Cole lascia la casa intorno alle 5 del mattino per andare a lavoro e verso le 17 ritorna a suo arrivo però nota delle tracce sul fango che portano fino all'interno del bosco come se qualche macchina del cantiere si fosse addentrata lì per qualche motivo incuriosito Cole segue queste tracce e una volta dentro il bosco trova l'escavatore del cantiere così chiede a David Casey se fosse stato lui a spostarlo fino a lì ma lui dice di no e anzi dice di non sapere nulla molto strano e infatti anche Cole rimane un po' confuso da tutto questo ma cerca di non pensarci troppo torna in casa e la giornata si conclude così giorni dopo però Cole riceve una telefonata dalla polizia in cui gli agenti gli chiedono il permesso di controllare a fondo letteralmente la sua proprietà lui ovviamente rimane un po' spiazzato ma dato che non ha niente da nascondere accetta di buon grado non ha idea della gravità della situazione infatti quando quel giorno torna a casa si ritrova davanti una scena che sembra uscita da un film ci sono nastri della polizia ovunque l'intera area è delimitata ed è pieno di volanti e lui capisce subito che sta succedendo qualcosa di terribile infatti il cantiere di casa sua è appena diventato una scena del crimine perché proprio lì gli investigatori hanno trovato i corpi senza vita di David Glasser Edward Frampton e Robert Chadwell i tre amici scomparsi la cosa che fin da subito sciocca tutti i presenti è che i corpi ritrovati non sono interi anzi sono divisi in vari pezzi e sparsi in diversi sacchi e uno di questi sacchi contiene tutte e tre le loro teste dio mio i resti sono in condizioni davvero pietose e già solo dalla scena del crimine si capisce che su di loro si è riversata una malvagità inaudita Cole in tutto ciò è del poco scioccato ma rimane ancora più scioccato quando scopre che uno degli uomini che aveva assunto e con cui aveva parlato spesso era coinvolto nel crimine sto parlando proprio di David Case che qualche giorno prima aveva detto a Cole di non sapere perché l'escavatore fosse nel bosco David infatti aveva aiutato degli uomini a nascondere i resti dei cadaveri nel cantiere quindi ecco perché l'escavatore era lontano lo aveva spostato lui e pare che l'avesse fatto perché questi tizi lo avevano minacciato di morte o meglio Adam Lee Hall lo aveva minacciato di morte proprio lo stesso Adam a capo di una gang e lo stesso Adam che ce l'aveva a morte con David Glasser quindi alla fine purtroppo la sua vendetta si è compiuta ha tolto la vita David e i suoi due amici che erano con lui e sembra che a questo punto la faccenda sia chiara sembra sia tutto risolto ma cavolo ragazzi non è per niente così Adam non ha mai agito da solo durante tutta la vicenda ha sempre avuto il sostegno della sua gang ma ha avuto specialmente il sostegno di un uomo in particolare parliamo di una figura che è rimasta nell'ombra per tutto questo tempo ma che ha avuto un ruolo fondamentale negli omicidi si può dire che fosse il braccio destro di Adam e ragazzi fidatevi non ho mai visto una persona più inquietante di lui Cayus nasce nel 1980 e al momento dei delitti ha 31 anni come potete immaginare Cayus non è il suo vero nome o meglio legalmente lo è ma lo ha cambiato nel 2008 perché prima si chiamava Roy Gutfinski non si sa il perché abbia scelto proprio questo nome ma possiamo ipotizzare che per scegliere Cayus si sia ispirato a qualche imperatore romano mentre per Domitius ha il nome di una famiglia dell'antica Roma che a sua volta deriva dal latino Domitus che si riferisce a qualcosa o qualcuno che è stato domato infine invece per Vejovis potrebbe aver preso ispirazione dal lato più oscuro del dio Giove che viene appunto indicato con il nome Vejovis però appunto sono solo supposizioni perché non ha mai rivelato davvero il significato del suo nome comunque Cayus è il figlio adottivo di una famiglia di Pitston nel Maine quindi cresce lì ma già durante l'adolescenza comincia a comportarsi in un modo molto discutibile nell'agosto del 1999 infatti lui e la sua ragazza adescano una ragazzina di 16 anni e la portano in un motel lì le fanno una ferita nella schiena con un rasoio dopodiché leccano il suo sangue dalla schiena mentre si baciano penso che fosse una sorta di rituale satanico una cosa del genere comunque alla vittima vengono messi ben 32 punti di sutura quindi i due vengono arrestati e durante quel processo Cayus afferma di essere un vampiro e un adoratore di satana dice inoltre che gli piace il sapore del suo sangue e di quello degli altri quindi possiamo dire che già da giovane era davvero molto problematico infatti a quel processo sia lui che la sua ragazza vengono condannati a 10 anni di reclusione ma per qualche motivo dopo solo 3 anni vengono rilasciati nel 2006 però Cayus viene di nuovo arrestato con l'accusa di rapimento e possesso di droghe aveva tenuto in ostaggio due stripper in una camera d'hotel ma alla fine le accuse cadono molto in fretta per qualche motivo tuttavia nonostante questo poco dopo viene di nuovo mandato in prigione per aver violato la libertà vigilata insomma avete capito non è proprio un ragazzo tranquillo anzi ma comunque quando esce nel 2008 cambia finalmente il suo nome all'inizio voleva chiamarsi diszade trash horror ma poi ha deciso quello che oggi conoscono tutti Cayus Domitius Vejovis è una cosa interessante che alla richiesta del cambio di nome ha scritto queste parole voglio rompere ogni legame con la chiesa cristiana e un passo importante verso questo obiettivo è cambiare legalmente il mio nome ma il primo cambio di nome venne respinto per cui lui mandò una seconda lettera in cui scrisse adottato da piccolo non ho parenti di sangue e non condivido la nazionalità espressa dal cognome che mi hanno attribuito è stato a lungo un peso per me essendo che il nuovo nome ovvero Cayus Domitius Vejovis che ho scelto accuratamente dopo una lunga riflessione rappresenti più correttamente la mia individualità e nazionalità questo nome si accorda inoltre con le mie convinzioni religiose dopo questa lettera il nuovo nome venne approvato quindi ragazzi Cayus ha le idee fin troppo chiare in sostanza è una persona che vuole solo il sangue la violenza e la droga ma oltre a questo vuole anche essere e apparire terrificante per questo motivo decide di tatuarsi diverse scritte e simboli satanici specialmente in faccia poi si fa impiantare delle protesi nella fronte in modo da sembrare che avesse sei corna in totale tre di qua e tre di qua e si fa anche delle cicatrici su tutto il volto e sulle braccia e un aneddoto interessante è che ogni volta che qualcuno guardava le braccia o il volto di Cayus lui andava da loro e diceva visto cosa mi son fatto da solo immagina cosa posso fare agli altri io spero davvero di non incontrare mai una persona inquietante come lui e non solo per l'aspetto quello non vuol dire niente ma proprio per il suo modo di comportarsi ma vabbè torniamo a noi nel 2011 Cayus si trasferisce a Pittsfield ed entra subito a far parte degli Hell's Angels la gang di Adam ora ormai adulto vive in una casa tutta sua che ovviamente anche lei è ridotta malissimo anzi ve la descrivo un attimo cioè il suo appartamento era completamente nero sia i muri che l'arredamento poi teneva perennemente le persiane abbassate era sempre tutto al buio tutto in ombra aveva delle ossa finte credo finte spero finte sparse ovunque foto di cadaveri appese alle pareti lame coltelli dappertutto e anche un serpente che tiene in una teca e vabbè ho voluto dirvi queste cose solo per farvi capire meglio che tipo di persona fosse ma quindi cosa c'entra con gli omicidi qual è stato il suo ruolo in tutta questa storia ecco dovete sapere che Adam aveva informato tutti i membri della sua gang del suo piano omicida contro David doveva farlo fuori ad ogni costo e chiaramente aveva bisogno di una mano quindi indovinate chi si rende subito disponibile esatto Caius immagino che non vedesse l'ora di fare una cosa del genere e il modo in cui agirà conferma questa mia ipotesi il giorno del delitto infatti Adam Caius e un altro membro della gang di nome David Chalwe decidono di attaccare vengono ripresi da delle telecamere di sorveglianza quattro ore prima della sparizione e altri testimoni dicono di averli visti vicino alla casa delle vittime e se vi ricordate la proprietaria di casa di David Glasser aveva sentito e visto cose molto sospette quella sera erano proprio loro che durante l'uragano sono entrati in casa e hanno costretto i tre amici a salire nella loro auto con la forza a questo punto quindi David Edward e Robert vengono portati in una foresta lì vicino i tre criminali li fanno scendere e li portano in mezzo agli alberi dove li torturano e infine li uccidono il loro obiettivo era David sempre per quell'assurda questione dei rottami rubati e perché Adam aveva paura del processo ma gli altri due Edward e Robert sono stati delle vittime collaterali delle persone che semplicemente si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato ma i tre criminali non importava non volevano testimoni così li hanno colpiti con coltelli e mannaie torturandoli in una maniera a dir poco atroce ai ragazzi e poi infine hanno sparato a tutti e tre e li hanno fatti letteralmente a pezzi ma quindi come ha fatto la polizia a trovarli cos'è successo dopo il delitto innanzitutto è giusto che sappiate che quella sera Adam era felicissimo godeva proprio come un pazzo insieme a Caius erano davvero contenti di aver torturato e smembrato quelle tre persone innocenti ma pare che sia stato Caius quello che più di tutti ha infierito sui corpi e lo ha fatto davvero con una malvagità inaudita ma nonostante quello che avevano appena fatto il giorno dopo come se nulla fosse Adam è andato a comprare qualcosa in un negozio ma il commesso di questo negozio ha notato che era tutto sporco di fango addirittura i soldi con cui ha pagato erano sporchi di fango eppure la ragazza di Adam si era accorta che sia lui che i suoi due complici quel giorno erano particolarmente sporchi insomma stiamo parlando di testimoni che hanno capito che qualcosa non andava e vi immaginate questi tre hanno commesso tre omicidi e non si sono neanche lavati o cambiati i vestiti fino al giorno dopo non si sono neanche preoccupati di questa cosa e non si sono neanche preoccupati di nascondere i resti non subito almeno ma in ogni caso la leggerezza con cui hanno preso tutta questa faccenda è davvero disarmante ad ogni modo gli agenti hanno raccolto tutte le varie testimonianze e prove e hanno ricostruito quello che sto per dirvi tenete a mente che conoscevano le ostilità tra Adam Lee Hall e David Glasser per cui erano già propensi a sospettare di lui ma comunque innanzitutto ricostruiscono che il giorno dopo il delitto già dalla mattina presto erano tutti e tre insieme i criminali dico i tre della gang e hanno girato in vari negozi bar e ristoranti pagando con banconote sporche e bagnate poi il giorno dopo ancora Adam si è presentato nella casa di Cole a Beckett quella in cui c'era il cantiere ed è lì che ha obbligato David Casey ad aiutarlo a nascondere i corpi lo ha minacciato di tenere la bocca chiusa altrimenti lo avrebbe ucciso per cui David Casey dopo essersi assicurato che Cole il proprietario di casa non fosse lì ha preso l'escavatore e l'ha portato tra gli alberi dove ha scavato una buca di circa un metro di profondità Adam lo ha poi raggiunto sul posto col suo veicolo e ha scaricato i resti nella fossa poi Casey ha ricoperto il tutto ma prima di andarsene Adam gli ha ribadito di non aprire la bocca per nessun motivo gli ha detto che se l'avesse fatto avrebbe ucciso sia lui che tutta la sua famiglia ma ha addirittura aggiunto che se anche fosse finito in prigione per colpa sua avrebbe comunque trovato il modo per fargliela pagare in qualche modo l'avrebbe ucciso in qualche modo magari mandando qualche membro della sua gang dette queste cose se n'è andato lasciando Casey evidentemente terrorizzato nei giorni successivi la polizia ha cominciato a cercare i tre uomini scomparsi ma intanto i tre assassini non erano minimamente preoccupati anzi si sono comprati vestiti nuovi e si sono ubriacati nei pub probabilmente usando i soldi rubati delle vittime poi come sapete Adam e David Chalwe hanno gettato dei vestiti nel fiume e la polizia alla fine è riuscita a recuperarli quindi li ha fatti analizzare in laboratorio e dai risultati si è evinto in maniera indiscutibile che Adam Caius e Chalwe avevano davvero ucciso David Edward e Robert dunque mettendo insieme tutte le prove e le testimonianze si arriva finalmente in tribunale Caius il membro più brutale del trio si dichiara innocente e dopo tre anni di isolamento rifiuta ogni offerta di patteggiamento ritiene di non dover scontare una pena per un delitto che dice di non aver commesso ma la sentenza arriva il 27 settembre 2014 giudicato perfettamente sano di mente Caius Domitius Vejovis viene condannato a tre ergastoli ascolta la sua condanna in silenzio ma alla fine perde il controllo e urla ci rivedremo tutti all'inferno anche Adam e David Chalway vengono condannati a tre ergastoli ma in processi separati tutti e tre comunque vengono anche accusati e condannati per intimidazioni estorsione e spaccio di droghe quindi alla fine possiamo dire che è stata fatta giustizia e ovviamente la gang di Adam si è sciolta non esiste più l'intera vicenda in teoria finisce così ma vi invito a pensare un attimo a quelle povere vittime David ed Edward in particolare avevano avuto tanti problemi nella vita compresi i gravi problemi dello sviluppo per loro vivere non è stato facile ma avevano finalmente trovato la loro stabilità stavano finalmente sereni erano indipendenti cosa che fino a poco tempo prima non potevano essere per via delle loro condizioni ed è davvero triste e ingiusto che siano stati uccisi da questi tre mostri chiaramente anche Robert era innocente e non meritava affatto una morte così atroce nessuno lo meritava eppure a causa di quei rottami rubati per sbaglio da David hanno dovuto pagare tutti e tre è davvero un epilogo tristissimo e non ho molto altro da dire cioè sono abbastanza sconvolto mi dispiace veramente un sacco per loro quindi fatemi sapere anche voi la vostra intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che prestissimo uscirà il video su una cosa che mi chiedete da mesi vi dico solo che si tratta di un video diverso dal solito che uscirà in un'occasione diversa dal solito al raggiungimento di un traguardo speciale per questo spero che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi vi invito a massacrare il pulsante iscriviti e oggi vi invito anche a mettere un like perché non avete idea di quanto ho sudato letteralmente per registrare questo video anche per scriverlo perché è stato veramente un casino cioè è talmente orribile ci sono talmente tanti dettagli strani un po' dubbi anche delle varie fonti è stato molto difficile e in generale si è trattato di una storia molto triste secondo me quindi non è stato facile mettete un like se volete mettete un dislike mettete un commento fate qualcosa insomma per supportarmi perché io ho perso almeno 6 chili scrivendo questo video facendo questo video in generale comunque adesso parlo con te si proprio con te se ancora non ti sei stanchato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao